Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. In questa terza domenica ecco un testo davvero meraviglioso, l'incontro di Gesù con la Samaritana. Potremmo quasi intitolarlo l'incontro tra la sete che Dio ha di noi e la nostra sete di Lui. Una donna infatti qui va al pozzo e trova qualcuno che le chiede da bere. Questo sconosciuto le offrirà un'altra acqua che disseterà in lei una sete ben più profonda di quella fisica. Alla fine nessuno dei due berrà, anzi la donna addirittura lascerà lì la sua brocca perché Gesù risolve una sete molto più profonda. Ma andiamo al testo. È un testo vastissimo e non mi propongo assolutamente di esaurirlo. Tenete conto che il Vangelo secondo Giovanni usa molti simboli e dietro ogni parola c'è un significato molto più profondo. Cari amici vorrei proporvi in semplicità quattro passaggi che possiamo cogliere dal dialogo di Gesù con la Samaritana nella speranza che ci siano di aiuto per approfondire il nostro rapporto con Gesù. Primo passaggio alla scoperta dell'acqua viva. Gesù arriva stanco al pozzo di Giacobbe attraversando la Samaria e qui incontra la donna samaritana che va ad attingere acqua al pozzo e Gesù le si rivolge con un termine particolare donna che significa anche sposa. Quindi Gesù sembra quasi volersi mettere in una posizione di bisogno e quasi iniziare un corteggiamento. Sì, un corteggiamento ma non come lo potremmo intendere subito noi, un corteggiamento divino. Lo sposo nell'antico testamento è Dio e la sposa è il suo popolo. Inizia il corteggiamento di questa donna che vuol conquistare a sé, alla fede in lui. Donna dammi da bere. E lei rimane stupita. Come? Tu che sei un giudeo chiedi a me che sono una samaritana da bere. Infatti tra giudei e samaritani non correva buon sangue e non era opportuno che un giudeo si rivolgesse a una samaritana e tanto più un maestro fosse da solo con lei. La risposta di Gesù è spiazzante. Se tu sapessi il dono di Dio saresti tu a chiedermi acqua viva. E qui vediamo che già Gesù la sta spostando su un altro piano. La inizia ad accompagnare alla scoperta di una sete più profonda che lui può saziare. Ed è bellissimo notare che Gesù parla di dono di Dio. C'è un dono per te. Noi tante volte partiamo dal fatto che Dio sia qualcuno da servire, a cui offrire prestazioni sperando magari di ricevere qualche grazia in cambio e dimentichiamo invece che prima di tutto Dio è dono. C'è un dono per ognuno di noi. Dio viene a donare se stesso. Il dono più bello per eccellenza. Se tu conoscessi questo dono che Dio ha per te, tu stessa mi avresti chiesto acqua viva. Gesù dunque inizia a spostare l'attenzione della samaritana dall'acqua materiale a un'acqua viva capace di dissetare una sete più profonda che è in lei. Ed altronde Gesù stesso manifesta di avere in sé una sete più profonda. Sì, la sete di amore. La sete dell'amore di questa donna. La sete anche della felicità di questa donna. Gesù si pone davanti a lei come un povero che chiede di essere accolto e proprio nell'essere accolto riccamente è capace di ristorare l'anima. Vi aiuto a cogliere qualche particolare meraviglioso. Sono le ore 12 e Gesù dice o sete. Cosa richiama l'ora della passione? Mezzogiorno Gesù incroce che griderà o sete. Madre Teresa colse perfettamente il senso profondo di quella sete, la sete d'amore. La bellissima esperienza di Madre Teresa quando girando per le strade di Calcutta vide un povero moribondo per la strada e nell'incrociarlo sentì fortemente nel suo cuore proprio queste parole. Ho sete. La sete di Dio è la sete di noi. Ha sete di noi, del nostro amore. È innamorato cotto. Allora Gesù dice guarda c'è un dono per te e vuole aiutare questa samaritana e lei tutti noi a cogliere che nel suo cuore c'è una sete ben più profonda. Questa donna incalza rispondendo ma scusami io non vedo che tu hai con te nessuno strumento e come vorresti prendere l'acqua? Ma forse pensi di essere più grande del nostro padre Giacobbe che ha fatto costruire questo pozzo? Ecco inizia a capire che il discorso di Gesù è più profondo di quel che sembri. Non siamo più a livello di sete fisica e Gesù incalza ancora e ulteriormente dice a questa donna chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi quest'acqua diventerà sorgente che zampilla in lui per la vita eterna. Cosa sta offrendo qui tra le righe Gesù? Le sta offrendo in lui il dono dello Spirito Santo che il Signore effonderà con la sua morte, risurrezione, il dono grande dell'avere in noi la presenza di Dio. Vediamo come va avanti il dialogo. Questa donna dice Signore allora dammigli quest'acqua perché io non devo più venire qui a prendere quest'acqua fisica. Gesù allora fa un passaggio e anche il nostro secondo passaggio dalla sete e l'acqua viva si passa al marito. Bene vai a chiamare tuo marito ma io non ho marito gli dice questa donna. Brava hai detto bene infatti ne hai avuti cinque e quello che ora hai non è tuo marito in questo è detto il vero. Questa donna si sente conosciuta, accolta, amata, riconosce in Gesù un profeta. Gesù coglie che questa donna è una donna che ha dato il cuore a tanti ma è rimasta profondamente delusa. Ha dato il suo cuore a tanti ma non all'unico, all'unico capace di colmarla con il suo amore. Verrete a livello umano questa donna sì ha avuto cinque mariti e nel mondo giudaico era soprattutto il marito a dare l'atto di ripudio alla moglie quindi ha avuto cinque mariti che probabilmente l'hanno lasciata e ora sta con un altro che non è suo marito ma questa immagine rimanda ancora più profondamente potremmo dire a tutto ciò a cui uno nella vita può dare il suo cuore pensando che possa bastare. Tutto ciò in cui uno ripone le sue sicurezze ma che poi ti rendi conto che crollano. Infatti secondo alcuni biblisti questi cinque mariti richiamerebbero ad un significato più profondo agli idoli. Infatti sposo in ebraico si dice Baal e i Baal erano anche gli idoli e in Samaria c'erano cinque colli dove man mano i coloni e i popoli nel tempo avevano costruito cinque templi cinque diverse divinità cinque diversi idoli c'era anche il monte dove si adorava Adonai quindi potremmo dire che questa donna ha dato il cuore a tanti mariti a tanti idoli ha assolutizzato nella vita tante cose che l'hanno delusa e in fondo l'esperienza che spesso tanti di noi hanno vissuto si ritrovano a vivere in certi momenti della vita quando assolutizzi che sia il lavoro che sia una persona che sia le tue capacità che sia ciò che sai fare che sia ciò che hai poi arrivano momenti seri di prova di vuoto e tutto crolla tutto crolla fin quando non abbiamo dato il nostro cuore al vero sposo a colui che si dona fino in fondo per noi e che ci salva. A livello esperienziale potremmo dire che tanto più trascuriamo il rapporto profondo autentico con Dio tanto più attacchiamo ad altre cose il nostro cuore tanto più un sacerdote un consacrato una consacrata trascura la vita interiore tanto più finirà per cercare vuote e vane compensazioni tanto più un cristiano una cristiana qualsiasi livello sia trascura il vangelo trascura la preghiera trascura l'intimità con Dio tanto più rischierà di cercare altri sposi di cercare altre cose su cui puntare tutta la propria vita o alle quali chiederà quella gioia quella pienezza che non le possono dare perché perché ognuno di noi è nato ed è fatto per l'infinito e solo Dio può saziare fino in fondo la fame la sete di eternità di senso ed amore che abbiamo nel cuore ecco questa donna che dice Gesù bene vedo che sei un profeta allora dimmi ma dov'è che dobbiamo adorare Dio sul nostro monte Garizim dove una volta c'era il tempio perché ormai già era distrutto oppure a Gerusalemme in quale luogo noi dobbiamo andare per adorare Dio per incontrarlo e Gesù l'aiuta a cogliere un aspetto bellissimo a dire donna guarda non su un monte o su un altro viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori lo adoreranno così in spirito e verità qui c'è tutto un tema particolare che non approfondisco ma per dirvela in semplicità Gesù le sta facendo cogliere ci sta facendo cogliere che accogliendo lui che è la verità diveniamo partecipi dello spirito santo e quindi possiamo adorare Dio nello spirito possiamo adorare il padre potremmo dire immersi in Dio stesso in una relazione di figliolanza che non si spezza mai questo non vuol dire che la fede va vissuta in modo intimistico no c'è l'aspetto bellissimo dell'incontrare il risorto con la comunità con la chiesa ma c'è una dimensione di comunione interiore di dialogo d'amore di inabitazione divina in ciascuno di noi resa possibile dalla fede in Gesù qualcosa di bellissimo Dio che è più intimo a noi di noi stessi allora ecco l'ultimo passaggio questa donna infine dice bene per cogliere ogni cosa noi stiamo aspettando il Messia è lui che ci aiuterà a capire davvero tutto che ci rivelerà tutto e Gesù le dice donna sono io che ti sto parlando ed è bellissima la conclusione questa donna riconoscendo in Gesù il Messia lascia lì la sua brocca e corre ad annunciarlo agli altri ha incontrato l'amore quello vero ha incontrato il volto di Dio quello più bello ha incontrato lo sposo vero colui che è capace di saziare fino in fondo la sete d'amore che ognuno di noi ha nel cuore ormai la sete del corpo può aspettare ad annunciare ai suoi connazionali agli altri samaritani la gioia di quell'incontro che ha vissuto e che le ha cambiato la vita che Dio vi benedica pace e bene a tutti